Buon pomeriggio, una gran bella vittoria, era molto attesa dopo la prova di oggi. Suo stituto di lui ci consigli di essere appena in un'altra parte? Allora io cerco sempre di impegnarmi al massimo, quando il mister mi dà la possibilità cerco di farmi trovare pronto ed è il migliore di me. Poi se non gioco la mia squadra vince e sono contento, poi se posso dare il mio contributo ancora di più. Ecco, un Lazio che continua a vincere, gioca bene, si esprime al meglio, i tifosi iniziano davvero a sognare. Come può arrivare questo Lazio? Non lo so, noi affronteremo partita dopo partita e poi vedremo alla fine quello che succede. Vediamo che Petkovic sta avendo tanta fiducia, come ti sta trovando questo mister? Se non ci puoi dire qualcosa, questo tecnico che prima era un punto interrogativo e adesso sta diventando una vera certezza. Cioè il mister è bravo a gestire i giovani, si è visto e comunque a me mi fa piacere che mi vede. Luiz, 9 punti in 3 partite, fino a quando la Lazio non avrà un obiettivo d'alta classifica? No, non lo so. Senti, come ti trovi con questo ruolo di attenzione sinistra? Perché c'è la tua esapezza da destra. Sì. La parte, però, mi sembra che stai migliorando di parte. Eh, quello che ho detto prima, in allenamento, mi sto allenando al massimo, cercare sempre di migliorarmi, poi alla fine i risultati poi si vedono. Senti, possiamo trovare un punto debole a questa Lazio? No, per adesso non ne ha. Grazie, a posto.